accompagnare a casa la ragazza perché ero un quartieraccio io mi comporterei come lui oppure farei qualche cosa di diverso perché lui il delinquente sangotretto tende a essere invasivo magari ti dice guarda adesso che siamo amici adesso che ci sono amici un cazzo come quelli che dicono siamo tutti amici su facebook non ne ne sono neanche mai visti quindi uno che tende a accorciare le distanze a dire cose che sono fuori luogo come mai ci può essere qualcosa sotto cioè se io volesse aiutare la vecchietta o una ragazza o quello che è però non andrei troppo vicino direi io la posso? sto qua tengo la distanza perché so che non riconosce potrebbe giustamente essere sospettosa